Ondata di caldo via via più intensa nei prossimi giorni anche sull'Italia, sebbene alcune zone vedranno temperature non particolarmente eccessive con caldo anche nella norma e ci riferiamo in particolare versanti adriatici al sud esposti a correnti nord orientali che smorzeranno i bollenti spiriti dell'anticiclone e nel dettaglio vediamo come le regioni del sud saranno quelle che avranno temperature non particolarmente eccessive anzi con caldo del tutto nella norma e la possibilità anche di qualche occasionale temporale di calore in particolare sull'Appennino calabrese e sui rilievi della Sicilia. Con questo è tutto aggiornamento in tempo reale anche sul sito